Siamo di nuovo qui col Movimento Cittadini per tutte le questioni sociali riguardanti la nostra Reggio Calabria. Questa volta è il turno del porto, anche questo è un bene che vuole essere usurpato privilegiando sempre i porti nazionali ma nordici. Non si è voluto capire che Reggio ha una risorsa nel suo porto, annesso a Gioia Tauro che è la perla della nostra emmessina, che sono praticamente le nostre vere risorse e che potrebbero essere il rilancio lavorativo, turistico, perché chiaramente sono annesse le due cose e quindi un'altra lotta per questo tentativo di usurpazione sempre nel nostro territorio ormai così martoriato. Noi vorremmo, vogliamo che Gioia Tauro non sia assolutamente dislegato da quello che è il porto, che è la necessità di Reggio e Messina, che insieme potrebbero veramente dare un'identità turistica di cui si parla ma che effettivamente ancora non si sviluppa.